A nessuno piace spolverare, è un lavoro noioso, spruzzi, asciughi, devi spostare tutto e non riesci mai a rimuovere tutta la polvere. Ah, i piumini catturapolvere tradizionali spargono la polvere e sporcono ovunque, perché spolverare casa non può essere facile. Bene, da adesso in poi lo sarà con Instant Duster Pro. Instant Duster Pro è il piumino catturapolvere rotante senza fili, incredibilmente facile da usare. È così leggera e maneggevole che ti chiederai perché non ne hai già uno. Il segreto di Instant Duster Pro sono le migliaia di setole con carica elettrostatica, possibilmente progettate per rimuovere la polvere. Guarda come le setole attirano la polvere. L'elettricità statica attira infatti polvere sporco, proprio come una calamita, e intrappano la polvere così velocemente e facilmente che non lascia residui. Pulisci sempre in un istante. Non importa dove deve pulire, basta accenderlo e fai il lavoro per te. Le setole rotanti ultra delicate raggiungono qualsiasi angolo, pulendo all'istante le superfici meglio di qualsiasi altro strumento. Guarda come arriva nei punti più difficili da raggiungere. Guarda come entra nelle fessure e negli angoli, pulendo delicatamente all'istante. È fantastico per pulire tende, radiatori, paralumi, cornici e persino le piante. Inoltre le setole di Instant Dust Pro sono ultramorbide e si adattano a qualsiasi superficie tu stia pulendo, all'esterno e all'interno. Potrai spolverare senza dover spostare più nulla perché Instant Dust Pro arriva dove altri attrezzi non arrivano. Scaffali viene di gingilli, intorno ai tuoi oggetti preziosi, persino librerie. Pulisci all'istante senza rompere mai nulla. Basta sciacquare le setole, lasciarle asciugare ed è già pronto di nuovo. Niente più stracci o più mini cattura polvere tradizionali. Inoltre Instant Dust Pro è dotato di un accessorio con setole mini. L'accessorio con setole mini ha le stesse setole con carica elettrostatica ed è perfetto per gli spazi più piccoli. Pulisci la tastiera o fai risplendere gli interni dell'auto all'istante. Ma Instant Dust Pro offre molto altro ancora. Infatti è dotato anche di una prolunga per pulire i punti più alti difficili da raggiungere, come le pare dei ventilatori, le lampade, le parti alte di mobili, elettrodomestici e finestre e persino le ragnatene negli angoli. Pulisci all'istante facilmente. Quindi basta spargere polvere ovunque quando pulisci. Non spolverare più casa alla vecchia maniera. Pulisci in un attimo con Instant Dust Pro. Acquista il kit completo con l'ergonomico bastone del piumino cattura polvere istantaneo e la testa a setole grandi con le speciali setole in fibra a carica elettrostatica. E avrai l'accessorio con le setole in fibra piccole e anche la prolunga. Questa è un'offerta esclusiva. Instant Dust Pro. Acquistalo subito.